Salve ragazzi! Oggi 14 settembre andremo a effettuare la trassemina del prato verde. Questo è tutto quello che ci servirà per la trassemina. Tosa erba, arieggiatore e scarificatore, trelino spandiconcime, semente, concime, terriscio universale, rastrello a arieggiatore, tiraffoglie e rastrello a denti stretti. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.